Ciao ragazzi! Ciao! Siamo appena arrivati a Pineto Beach Ci aspettano tre giorni di divertimento Venite con noi che vi faremo vedere tutto quello che faremo Qui il mare è bandiera blu e la spiaggia è molto ampia E il villaggio è proprio sulla spiaggia Abbiamo portato anche Kiro con noi Guarda! C'è anche l'acqua Andiamo a vedere questa casetta Che bella! Questa è la cucina Guarda! Questa è la vostra cameretta Chi dorme sopra? Io! 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 Io dormo sopra! Io! No, io! Vabbè, dormite tutti e due sotto Sì! E guardate! Proprio davanti alla nostra casetta c'è il mare! Per disegnare! E questo è per raccogliere anche la pupù di Kiro E c'è anche un frisbee per far giocare Kiro Sì! Andiamo a vedere che altro c'è Dai, dai! Esploriamo! Molto bello il bagno Molto modello, eh! Bello anche il bagno Grande! Guarda che mega doccia! Wow! Io dopo mi faccio una super doccia Anch'io! E andiamo anche in piscina Perché abbiamo anche i costumi per andarci Sì! E di qua? Questa è perché c'è la nostra camera Oh! La nostra camera! Ma è bellissima! Ma è più bella di quella di casa nostra Qui ci siamo noi Ciao! Ciao! C'è il papà Ecco Kiro! Ciao! 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 Beh, anche i cagnolini hanno le loro regole Vicino alle casette non possono fare i loro bisognini Wow ragazzi! Guardate che piscina! Quando la vedranno Alice e Daniel, eh Kiro? Andiamoglielo a dire Andiamoglielo a dire che abbiamo trovato la piscina Andiamo! Corri! Dov'è la nostra casa? Sono tutte uguali Kiro, vediamo se la trovi, dai! Dov'è? Dov'è? Eccola! Hai visto la piscina, Alissa? Non vedo la di macchie Questo posto è bellissimo Una lucertola! Ciao, lucertolona! Secondo me sta pensando Ma cosa vuole questa? Perché mi stai prendendo? Ok se ne va Questa è una bandana per Kiro Gliela mettiamo dopo Sei biscottini! Andiamo a dare a Kiro? Sì! Eccolo! Hai visto che bella accoglienza anche per Kiro? Sì! Ma vediamo Daniel dove si è cacciato Cosa si fa lì su? Stavo poi giocando a spazio Il Neto Beach è la cosa più bella del mondo Ti piace questo posto? Sì! Ci voglio stare mille anni Andiamo ad esplorare! Sì! Anche la calamita! L'abbiamo? Ti stai divertendo Daniel? Sì! Sì! È bellissimo! Alissanguria! Ti sei divertita in piscina? Sì! Andiamo ad esplorare ancora un pochino allora? Sì! I trampolini! Li hai già visti? I trampolini! Abbiamo trovato l'area cani! Così facciamo divertire un po' anche Kiro Qua lo puoi sciogliere Eh? Gli puoi togliere il guinzaglio Si mangia! Si mangia! Un po' di anguria Un po' di anguria per Alissanguria Io assaggio la fragolona Buona la frutta! Buona la frutta! Tra un po' si gioca eh! Chi è Alissa? Chi è tu che sei? Facciamo un po' di Alissa Banel! Chi è Banel? Sei tu che è? Di sicuro? Missione Natura Bisogna trovare il ricercato inquinatore Forza Team Verdi! Chi è? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.